A me lo dici, sapessi quante volte mi è capitato di dover andare in scena a fare lo spettacolo con 41 di febbre? È successo innumerevoli volte durante il corso degli anni. Camma fa? Non c'è dubbio. Il prossimo 8 marzo ne faccio 55. Pinelli è un cretino, conta quello che dice Speranza. Questa è. E convieni con me che è un peccato, perché sarebbe un paese meraviglioso. Cioè sarebbe un paese veramente il paradiso, se riuscisse a guardare un po' avanti. Never so late, come dicono gli inglesi, non è mai troppo tardi. Anzi, ti ringrazio di avermi cercato, trovato e seguito. Hola tio, yo no estoy en España, yo soy en Italia, yo vivo en Napoli, yo soy completamente innamorado de España, però yo vivo en Italia, soy italiano. Assolutamente sì. Potendo, nella maniera più assoluta, sì, ci mancherebbe altro. E che quando dici dittatura, la gente chiaramente pensa alla Corea del Nord. E in realtà non è così. In realtà ci sono modi molto più subdoli per sottomettere i popoli, sempre di dittatura si tratta. Ma magari fosse, ma magari potessimo fare come la Gran Bretagna. Ma magari fosse, ma non ci contare. Sapessi quante volte ho pensato a questa cosa pensando a mio padre che è morto nel giugno del 2019. Certe volte penso, meno male che si è risparmiato questo momento storico così orribile, perché veramente avrebbe dato di matto. Per come era fatto mio padre, per il senso di libertà che aveva. Mamma mia. Non c'è dubbio. 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 Grazie a tutti